Com'è lei? Lei non è alta. Quant'è alta? È alta un metro e quaranta. È un po' grassa. Quanto pesa? Pesa 95 chili. Come sono i suoi occhi e i suoi capelli? Ha i capelli lunghi e castani e gli occhi neri e piccoli. Come sono il suo naso e la sua bocca? Ha il naso grande e la bocca stretta. Cosa mette addosso? Sopra ha vestiti larghi ma alcune parti sono corte. Di che colore è? La parte sinistra è rossa. La parte destra è gialla. La parte dentro va bene per quando fa freddo. Anche la parte fuori è spessa. Sotto ha un vestito lungo e comodo. Quanto costano i vestiti? Quello sopra costa 46 euro. Quello sotto costa 38 euro e 20 centesimi. Cosa mette quando lavora? Quando va a lavorare a volte mette vestiti neri e bianchi. Di che cosa parla con le sue amiche? Con le sue amiche parla spesso di vestiti. Ma non vanno mai a comprare i vestiti assieme.